La Federcalcio olandese ferma i campionati dilettantistici e giovanili dopo la morte del guardalinee ucciso a calcio e pugni da tre giovani calciatori del club New Slotten di Amsterdam. Prima delle gare professionistiche verrà osservato un minuto di silenzio. Calciatori, arbitri e guardalinee scenderanno in campo con il lutto al braccio. Non si arresta intanto l'ondata di sdegno in tutta l'Olanda per la morte del guardalinee. La decisione del club che ha sospeso ogni attività e si è ritirato dal torneo e l'arresto dei tre ragazzi tutti fra 15 e 16 anni non spengono l'indignazione. Sotto la lente di ingrandimento anche i precedenti di violenze nel calcio giovanile olandese. Proprio il club New Slotten di recente ha avuto un richiamo ufficiale per comportamenti minacciosi nei confronti degli arbitri.